Venga rivista tutto il sistema pensionistico, 41 anni passano, abbiamo bisogno di pensioni dignitose, non è possibile provare la rimanifazione delle pensioni per anni, abbiamo milioni e milioni di doda pensionare ormai sotto la soglia di povertà. Basta, non vogliamo più aspettare, il governo non faccia finta che questi problemi non esistano, risolvano effettivamente il problema dei nazionali, può avere proprio attenzione alle richieste dei sindacati, abbiamo aspettato troppe leggi di stabilità ormai, non è possibile si continuare in mia strada, siamo stati, siamo stati, siamo stati, siamo stati, siamo stati, sul sistema realizzato, ho tanto che l'anno in cesta e negli altri anni, e non è possibile la nostra strada solida di rinforzare, abbiamo bisogno di costruire le persone che non esiste.